Ancora non sono pronti i ragazzi, quindi vorrei aprire e chiudere un'altra parentesi e vi prometto che non vi annoierò più. Ovviamente questi ragazzi hanno avuto oggi grande forza d'ironia e non è facile essere ironici, perché non tutti siamo nati buffoni. O meglio, non saliamo sul palco per fare i buffoni come spesso veniamo additati da chi non riesce a divertirsi. Saliamo sul palco per divertire Castiglione, per divertire noi stessi, perché come dice lo striscione del rione Aiere che adesso si è attorcigliato, per una vita meno seriosa bisogna ogni tanto uscire fuori dagli schemi e dare voce a quello che in ognuno di noi c'è. Perché io credo che in ognuno di noi c'è la voglia di folleggiare ogni tanto e di uscire fuori dalle righe. Sbaglio? Allora accogliamo con un applauso questo musical che è molto bello. Invito a liberare la piazza perché fra poco arriveranno su questa piazza delle despe molto colorate che ci riporteranno nel passato. E diciamo è ambientato, il titolo del musical è Grisi. Un applauso. Un applauso. Il caro è automatico, è sistematico, è automatico, è atro-matico, è freeze-lightnin! Il caro è successo, è successo, è successo, è successo! Il caro è successo, è successo, è successo, è successo! Il caro è successo, è successo, è successo, è successo! Il caro è successo, è successo, è successo! Il caro è successo, è successo! Il caro è successo, è successo, è successo, è successo! Il caro è successo, è successo! E' il bello, cari signori, che i sorrisi che ci hanno regalato non erano sorrisi di scena, questi si sono divertiti davvero! E' lo spagliato! E allora dai, fate un saluto! Maria, Ruggia, Alessio, Sibela, Roberta, Iri! E' una cosa sordinata! Ecco il futuro Latin lover di Castiglione! Un ringraziamento particolare! Un ringraziamento particolare, vi dicevano i ragazzi, va a Lugio, che si è prestato, che ha dato la disponibilità dei suoi locali, come sempre a zoppa delle macchine e niente male! Quindi ragazzi, adesso lasciamo spazio alla giuria di votare il rione vincitore, mi raccomando gli altri due rioni che non vinceranno, partecipiamo alla festa del rione che arriverà per primo, perché questo è il vero spirito delle rioniadi! E ci raccomandiamo, Corrione che arriverà per primo di organizzare presto una bellissima festa, vero? Grazie a tutti!